Buonasera, buon viaggio da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini, ultimo appuntamento di oggi. Un veicolo in avaria, siamo in A1 tra Valdarno ed Arezzo in direzione di Roma. Code sulla Firenze-Pisalivorno allo svincolo di la Strassigna in uscita provenendo da Firenze. Il traffico intenso anche all'uscita di Firenze Sud in A1 provenendo da Bologna. E a Firenze il traffico è lento sui viali di circovallazione sia in entrata che in uscita dalla città. Per la travia di Firenze ricordo i lavori, c'è un senso unico di marcia in via Tavanti tra Piazza Leopoldo e via Romagnosi. E per chi viaggia domani in Toscana è il tempo previsto dal Consorzio Lamma, cielo parzialmente nuvoloso domani con isolate e deboli piogge in particolare su nord-ovest e centro-sud. Dal tardo pomeriggio aumento della instabilità. Muoverci in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buona serata, a domani.